Un fondo Nato da 100 miliardi per l'Ucraina. Se ne discute al Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza, che si è riunito a Bruxelles per celebrare il 75esimo anniversario della firma del Trattato di Istituzione della Nato. L'obiettivo è quello di rendere il sostegno militare e finanziario a Kiev meno aleatorio. Alcuni alleati stanno subendo maggiori pressioni per onorare gli impegni a finanziare la spesa per la difesa al 2% del PIL nazionale. Nella cornice di una maggiore coesione legata all'emergenza bellica, la prospettiva di una possibile futura amministrazione Trump incombe sull'incontro di Bruxelles. Le recenti dichiarazioni dell'ex presidente fanno temere un disimpegno degli Stati Uniti in caso di sua rielezione.